Buongiorno e ben arrivati, vi do il buongiorno a nome della biblioteca, sono molto molto felice di avere qui Francesco Carofiglio che dialogherà con la nostra Carmela Iacovelli. Faccio una piccola parentesi, sono altrettanto felice che alcuni incontri di lector quest'anno si tengano qui in biblioteca perché ritengo sia molto importante questo dialogo tra le varie istituzioni culturali della città. E' un bene per noi che lavoriamo con la cultura e penso sia un bene per tutta la comunità. Quindi buon incontro, buon ascolto, buona mattinata visto che sono le 10.30. Vuoi protestare subito? No, volevo fare subito una protesta formale per questo orario bizzarro, siete d'accordo con me? Sono d'accordo con me, basta così. Basta così, ma passiamo alle cose belle. Ho trovato, troverò difficile parlare di questo libro perché è veramente stupendo, quindi tutto quello che leggerete e tutto quello che sentite voi nella vita con delle parole stupende, per cui è difficile usarne altre perché lui ha praticamente descritto tutto talmente bene che è difficile aggiungere. Quindi io inizio per darvi un assaggio di quello che è scritto, ma potremmo andare, aprire il libro a caso e c'è sempre una frase che sottolineerete, quindi questo è... poi ti presento, poi dirò chi sei... No, ma anche no. Anche no. Però siccome sei tante cose, vale la pena dirlo. Allora, io vi leggo questo perché è quello che è e poi da qui partiremo. Per molto tempo non sono riuscita a perdonarmi, quasi fosse una colpa sopravvivere, l'essenza inestinguibile del mio tormento. Tutta la bellezza immaginata, l'amore che travalica i corpi, che stupisce, che ci rende diverse. Questo legame così insano e perfetto, che ci ha reso invincibili e poi perdute per sempre. L'assenza disperata di un suono in questa casa, le parole dette e svanite. L'inquietudine delle cose ammassate sugli scaffali in quella folla di mondo, le porcellane di Baviera e i vetri di Murano, le bambole in taglio comprate in Olanda. L'oltraggio delle vite che smettono di esistere e lasciano questo deserto di oggetti. Non riesco che a provare rabbia per la morte, la malattia, la fine. Ora, poche persone avranno descritto così la morte. È un oltraggio. E iniziare il libro con una morte è coraggiosissimo. Perché è come la pistola di Chekhov nella drammaturgia. Se c'è una pistola in scena deve sparare. Quindi la morte, quando c'è, avviene. E la morte è un fatto dei vivi, in realtà. Perché chi muore, in fondo, se ne va. E ci lascia solo, spesso, rabbia. Ci lascia un oggetto da togliere, un ingombro. È un ingombro emotivo. E questa figlia, la storia di questa viola, che ricerca la madre, una madre ingombrante. Quelle belle mamme lisce, perfette. Quelle che sono brillanti, che hanno una bella carriera. Quasi irraggiungibili. Che sono necessarie perché ci formano bene. Ma in quella fase della vita, dove la figlia deve trovare una sua collocazione, sono scomode. Perché ci domandiamo, sarò mai così come lei? Però solo, forse, quelle madri che apprezziamo quando non ci sono più. Come quasi tutto quello che ci manca, quando non ce l'abbiamo più, realizziamo il possesso di quella cosa, quando è andata via. E Viola si mette alla ricerca, prima di se stessa, di se stessa dopo, ma in realtà è la ricerca della madre. Sono tutte e due figlie uniche, tutte e due senza padre. Quindi sono già delle persone mutilate. E questa ricerca è profonda. Il libro è impregnato a tante linee, a tante cose dell'anima. L'amore per la figlia di una madre, l'amicizia. C'è una bella amicizia tra Viola e Marcello, un amico della madre. Quindi attaccarsi a delle persone che hanno conosciuto la madre. E poi c'è quella smania di sapere chi sono i genitori quando non ci siamo noi. Quando non ci siamo ancora noi. Quindi sganciarli, togliere da un ruolo, perché il ruolo è in prigione, è una gabbia. Il ruolo ti impone un comportamento. Non puoi essere donna perché sei madre. Non puoi essere tanto uomo perché sei padre. Quindi la domanda è questa. È sempre necessario capire chi sono stati i genitori prima di noi? O è meglio lasciare le cose così? Intanto buongiorno, non l'ho detto prima, facendo un po' il buffone fuori posto. Intanto mi piace molto quello che hai detto. L'espressione che la morte è un fatto dei vivi. È sinteticamente molto efficace. Mi colpisce questa frase. Questa è una storia complicata. È la storia di un rapporto simbiotico, di fatto, tra una figlia e una madre. Appunto è stato detto, entrambe figlie uniche, entrambe orfane di padre, in un senso che non l'hanno mai conosciuto. È la storia di un recinto sacro che Barbara, la madre, costruisce intorno alla loro esistenza. C'è quasi un mantra nell'infanzia di Viola. Barbara dice, noi non abbiamo bisogno di nessuno. Poi si vede che in effetti noi abbiamo bisogno di persone, abbiamo bisogno di qualcuno. È la storia di un amore totalizzante e forse persino fagocitante. E' vero, Viola, la figlia, che nella storia, che comincia un anno dopo la morte di Barbara, ha 40 anni, forse non ha mai vissuto davvero. Risucchiata nel ruolo della, quando era bambina, della figlia madre, poi della figlia amica, ma sempre e comunque della figlia. Forse questa è la storia di un tentativo, chi leggerà, scoprirà se è riuscito o meno, di attraversare per la seconda volta il liquido amniotico, per una scelta precisa. Viola dovrà uscire da quel recinto sacro che ha costruito sua madre e lo farà forse per amore nei confronti di sua madre, ma forse per la prima volta per amore autentico nei confronti di se stessa. Prima di rispondere alla domanda, dico chi sono queste due donne. Viola è una psicologa che però non ha mai realmente esercitato la professione di terapeuta, perché all'età di 25 anni a Parigi, in un negozio, incontra un uomo, Marcello, molto più grande di lei, un uomo bellissimo, che fa il naso profumiere in una maison parigina. E scatta un vero e proprio innamoramento, che però non prevede lo scambio dei corpi, Marcello è omosessuale, ma è un amore autentico, che porterà i due a fare una scelta forte. Cioè decidono insieme di mettere su una bottega di essenze, di fragranze a Milano. Però a un certo punto, e quindi Viola lascia a 25 anni il percorso di tirocinio, che l'avrebbe portata a fare la terapeuta, però nel corso del tempo lei pensa di voler recuperare, mettendo insieme le sue due vocazioni, e si inventa un mestiere. Diventa un olfattivista. L'aromaterapia. Eh sì, no, non è esattamente aromaterapia in realtà. Sì, aromaterapia esiste, è un mestiere che mette davvero... In contatto la parte emotiva. In contatto, sì, perché... La parte emotiva con la suggestione esterna, no? Sì, perché lei di fatto prova a curare le ferite delle persone che andranno a trovarla in questo laboratorio, in questa bottega, proprio attraverso la sollecitazione che può portare dentro l'inconscio l'olfatto, cioè con gli odori, con l'essenza, con i profumi. Questo sollecita una memoria remota. Sapete che la memoria olfattiva è potentissima. Ed è anche Victor Hugo diceva appunto che il niente come l'odore è in grado di innescare un ricordo in memoria. Italo Calvino lo stesso, tu lo citi nella commozione dell'olfatto. Sì, la commozione dell'olfatto. Se pensate che un'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto, quella del déjà vu, cioè quella di appunto avere la percezione di trovarci in uno spazio, in un posto, no? E di averlo già vissuto, eppure non ci ricordiamo di averlo già vissuto, però sentiamo di esserci stati. E uso sentiamo non a caso, perché spesso, quasi sempre, questa percezione è determinata da un impulso olfattivo. C'è un odore che ci riporta a un mondo che abbiamo rimosso. E se pensiamo che per gli animali è essenziale, è il primo modo per conoscere l'ambiente che stanno attraversando. Sì, però qui la connessione è più profonda, perché la connessione dell'olfatto ci può portare persino a uno strato ancora più profondo della coscienza, e non stiamo parlando di nulla che non sia scientificamente, come dire, più che dimostrato, analizzato, studiato. L'epigenetica si occupa di quella che noi chiamiamo la eredità emotiva. L'eredità emotiva è la facoltà che ciascuno di noi ha di trasferire attraverso, come dire, l'iscrizione nel codice genetico di chi ci seguirà, i figli, i nipoti, e quindi noi riceviamo quello che è arrivato dai padri, dalle madri, dai nonni, non solo tratti della personalità, ma anche, come posso dire, dettagli dell'esistenza, incidenti in senso ampio, diciamo, e anche traumi, che rimangono incisi dentro il nostro codice e a volte ritrovano la luce, si ripresentano, ci lasciano sgomenti, a volte questo accade grazie a una connessione anche olfattiva. Questa è Viola. Viola non si è mai sposata, vive sola, non ha mai avuto rapporti duraturi, attraversa storie, non avventure, storie che, come dire, non la attraversano a sua volta. Mentre Barbara, sua madre, è stata una italianista brillante, ha lavorato, ha studiato alla Sorbonne, a Parigi, ha vissuto a Parigi, la chiamavano la Belle Italienne, era di fatto una donna bellissima. Anche in questo Viola è diversa da sua madre, Viola è un po' androgina, sicuramente, per come la immagino io, è una donna affascinante, ma non di quella bellezza, come dire, mediterranea, che spesso all'estero si aspettano che le donne italiane debbano avere. Comunque lei era effettivamente una donna molto mediterranea, una donna molto bella, e ha dinanzi a sé, quando vive a Parigi, un orizzonte perfetto, una prospettiva di vita e di carriera meravigliose. Ma succede qualcosa, resta incinta. Stai dicendo troppo? No, 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 no. Ho il controllo della situazione. Hai il controllo, perché questo libro ti fa perdere il controllo, diciamo. sono tutte cose che posso dire senza... E decide di tornare in Italia, non tornerà più a Parigi, e dentro quella città è custodito probabilmente un segreto della vita di Barbara. Ecco, ho fatto questa lunga premessa per parlare dei misteri legati ai nostri genitori. Forse nel libro si concretizza in una scatola piena di foto. Esattamente. Questo ritrovamento di una foto di una mamma felice. Quanto può ferire il sorriso di una mamma felice? Un figlio, forse. Perché lei ha paura di scoprire che la mamma è stata felice in qualche modo, che non comprenda lei, che non sia la vita che lei conosce. Quindi, questo mistero si ingrandisce tanto da portarla poi a... Beh, sì, quello è un passaggio che credo un po' tutti noi viviamo. Quando non ci sono più i nostri genitori, a me è successo concretamente, nel 2014 sono scomparsi entrambi i miei genitori, prima mio padre, poi mia madre, e ho dovuto fare quello che poi un po' prova a fare Viola, cioè provare a capire quando entrare in quella casa, quando avere il coraggio di eseguire la faticosa, dolorosa, ma necessaria operazione del riordino, no? E quando fai quell'operazione puoi imbatterti in qualche cosa che ti lascia perlomeno sorpreso. a me è capitato un po' come per Viola di trovare in una scatola un fascio di lettere avvolte da un nastro di raso un po' liso e mia madre è stata, e qui c'è un punto di tangenza con la storia, mia madre è stata un'italianista molto brillante, una scrittrice per me straordinaria e lei ha vissuto a Parigi e ha studiato e ha lavorato alla Sorbonne, quindi in questo senso c'è un punto solo qui, solo fino qui. Mio padre era un tipico esemplare del gentiluomo meridionale, era un ingegnere, uomo colto, con tutto il pudore della sua generazione. Io non ho mai visto mio padre e mia madre baciarsi. Non so se a voi è capitato, ma insomma mi riferisco a quelli più o meno della mia generazione. Non ho mai visto proprio dare un bacio sulle labbra, sulla bocca tant'è che, lo dico sempre, ci avete fatto vermitosi. Io dicevo, da ragazzo dicevo, ma come mi hanno prodotto. Ecco, io mi sono trovato dinanzi a quelle lettere e a un certo punto ho deciso di aprire quella... E la prima lettera è una lettera, erano appena fidanzati evidentemente, di mio padre a mia madre e questa lo racconto spesso e lì ho scoperto una cosa che mio padre baciava. E credetemi, la scoperta di questi due, questo ragazzo, questo giovane, questa giovane donna, che facevano le cose che abbiamo fatto tutti. Mi ha completamente spostato l'asse della memoria. Certo, ti consola, ti perdona. No, ma non è solo una consolazione, no, non è solo una consolazione, è un fatto quasi visivo. Io ho smesso di, negli anni che sono seguiti alla loro morte, di ricordare i miei nell'ultimo passaggio dell'esistenza, ma io ora quando penso a loro penso a due ragazzi che si baciano. Bellissimo, bellissimo. Quindi non sappiamo mai bene chi sono stati i nostri genitori prima di noi, però il mio consiglio è sempre quello di aprire quella scatola. Sai che giorno è oggi? 21 settembre, il giorno del matrimonio di Valeria e Cinzia nel libro. Sono due personaggi ho pensato a questo libro. Qui mi spavento perché non me lo ricordavo io questa cosa. Molta paura di te. Ma forse perché tu l'hai scritto tanto tempo fa io l'ho finito di leggere dieci giorni fa. Ma poi questo libro mi è rimasto dentro per un altro motivo perché Francesco Corofiglio è uno scrittore ma anche un attore è un regista è un regista un illustratore credo anche un fumettista poi anche un mestiere rispettabile tra le altre cose poi se rimane un po' di tempo fa anche progetti per qualcuno e ha fatto questo libro è anche meraviglioso perché è un audiolibro io sono una fan dell'ascolto ora vi dirò leggere è stupendo ma quando vuoi leggere non puoi l'audiolibro è fantastico perché ti fa tornare indietro anche se io rileggo ma riascolto quello che ho letto sono maniaca per cui ho fatto proprio un scavato dentro e la sua voce essendo un attore è fantastica per cui poi ti chiederò una cosa che dovrai fare solo per me alla fine mi dovrai dire una cosa come l'hai detta nell'audiolibro e quindi questo libro ha la sua ho sempre più paura io allora io ma mi alzo in piedi devi dire beh no lo diciamo dopo questo rimanete fino alla fine perché sarà il mio momento sarà il mio momento e quindi che stavo dicendo allora è anche un audiolibro quindi lo potete lo potete vivere come volete ma ma questo il guaio di questo libro è che ti devi fermare e devi dire questa la sottolineo questa la sottolineo questa è bellissima e c'è anche un bel rapporto quindi Valeria e Cinzia sono due persone che si devono sposare sono due donne che si devono sposare questo giorno quindi era un inciso così ma chi è Valeria? Valeria è una una delle tante figure poche perché Viola ha una vita un po' ritirata un po' una brava ragazza però ama l'acqua e nuota nuota tanto e ha anche la descrizione del nuoto non ve la sto a dire perché il silenzio le bracciate l'idea che l'acqua ti metta in comunicazione con il pensiero del tuo compagno di Vasca il modo per riflettere il silenzio che l'acqua il rumore dell'acqua che accompagna il silenzio del tuo pensiero è qualcosa di cioè è tutto un lavoro interiore che fa Viola però non pensatelo come una cosa ma però questa no è una persona che ha voglia di capire dove ha smesso di apprezzare la vita perché c'è un momento in cui lei forse ha troppo importanza a tutto e magari vede gli altri che si divertono che hanno relazioni la stessa sua amica che l'aiuta a sgombrare la stanza in realtà ha avuto una frattura forte si sta separando dal marito però riesce a dare la spinta l'abbrivio emotivo a Viola ad andare avanti e poi lei decide che per riempire quella stanza vuota che è il padre che non c'è per capire chi è stata la madre per capire chi è stata lei deve muoversi da dove sta e quindi va a Parigi si mette sulle tracce di questa cosa è un viaggio che serve non serve a granché serve solo a lei serve solo a far pace con quelle cose che non che non hai capito e com'è la memoria è una grande cosa è la seconda possibilità di rivivere le cose quindi lei torna indietro va avanti è un gioco continuo dei suggestioni e poi il lavoro e attraverso gli altri aiutare le persone che non vogliono ecco si presenta da lei in studio nella bottega una donna che è stata abbandonata questi scrittori che non si portano il proprio libro ma il mio libro è vergognoso perché tutto mi devo portare il mio libro no è capitato ho visto qualcuno che non c'aveva il libro come a scuola non hai portato il libro si allora ci sono dentro questo laboratorio ci sono questo questo moderato via vai di persone ci sono persone che entrano alla ricerca di qualche cosa una di queste è una signora e se avete due minuti vi leggo un pezzo tutto narrato in prima persona da Viola tutta la storia nel pomeriggio ricevo Nora è una maestra elementare in pensione veste con cura poco trucco capelli raccolti dietro la nuca una bella voce con una leggera aggredevole inflessione emiliana deve essere stata una brava insegnante usa le parole con chiarezza senza pedanteria noto che sulla gonna c'è un piccolo rammendo e mi sembra di non vederne da chissà quanto mi fissa per qualche istante poi si inumidisce le labbra sono qui per raccontarle una storia Nora nasce sotto i bombardamenti nell'agosto del 43 suo padre e sua madre muoiono per il crollo del palazzo in cui sono rifugiati ma lei miracolosamente si salva viene accolta in un istituto di suore e di clausura le sorelle della carità in attesa di poter essere affidata a una nuova famiglia nessun parente si fa vivo la bambina non ha un nome né un cognome è una figlia di nessuno e così le suore infrangendo ogni regola decidono di crescere la piccola clandestinamente di lei si occupa soprattutto suor Marta la più giovane quattro anni dopo Nora vive ancora presso il convento è una bambina felice ignara sconosciuta al mondo era domenica lo ricordo benissimo poco prima di scendere in refettorio era affacciata alla finestra la finestra della mia cameretta e facevo sventolare una bandierina e in quell'istante succede qualcosa un'ispezione improvvisa il nuovo parroco e due carabinieri perquisiscono le celle i dormitori una lettera anonima arrivata in parrocchia li ha avvertiti che le sue retengono prigioniera una bambina scoppia uno scandalo tutto verrà messo a tacere velocemente dalla curie all'istituto sarà chiuso le sorelle trasferite in altre città e la bambina che ormai ha quasi 5 anni è affidata in adozione a una famiglia della provincia di Varese lei e suor Marta non si rivedranno più non sono mai riuscita a rintracciarla sulle suore che si erano macchiate del peccato terribile di allevare amorevolmente un'orfana si era abbattuta la scure dell'ordine Nora parla piano la voce si è appena incrinata prende un fazzoletto si asciuga gli occhi poi si soffia il naso infila il fazzoletto nella manica della blusa e riprende a parlare adesso lei si chiederà perché io sono qui è stata una specie di illuminazione quando ho visto il volantino in erboristeria è tutta la vita che vorrei sentire risentire il profumo di quelle stanze la cucina il refettorio il piccolo chiostro del convento è il seno di suor Marta il seno io sono sicura che suor Marta mi abbia allattata e io avverto uno sbandamento che faccio fatica a nascondere sì lo so sembra una cosa riprovevole ma non lo è mi creda no no non penso affatto che sia riprovevole guardi Viola io ho avuto tre madri quella naturale quella che mi ha adottato e quella che mi ha salvata e cresciuta fino a quel giorno di aprile ho avuto la mia vita mi ritengo fortunata ma sento un grande vuoto dentro di me prima di andarmene da questo mondo vorrei sentire ancora quell'autore qua potremmo salutare e andare però però è tanto questo libro è appunto è questo è pieno di odori è pieno di cose che non hanno fisicità ma sono raccontate e descritte come se l'avessero per cui diventa importante tutto tutti i sentimenti hanno come dire hanno un loro posto Viola e anche dicevo con Marcello questo bel questo elegante elegame sì effettivamente non c'è lo scambio dei corpi ma loro si ammirano molto Marcello è preoccupato se non la vede infatti la sera del compleanno come molte persone che stanno in quella fase lì che non vogliono vedere nessuno al giorno del compleanno spariscono dal mondo e quindi lei ha proprio un'avventura si ubriaca la sera in un bar e poi Marcello la chiama al telefono tantissime volte ed è Marcello è padre è fratello è l'uomo è l'uomo ideale è l'uomo anche impossibile perché diciamo è orientato su altre scelte di vita e quindi sarebbe sarebbe forse un rifugio Marcello come uomo per Viola che non ha voglia di conoscere però su questo io ho un'idea diversa io non direi che l'uomo è impossibile è possibilissimo cioè è un legame straordinario cioè fuori dall'ordinario loro è io vorrei avercelo un legame così io vorrei avere un legame che non necessariamente prevede lo scambio dei corpi ma avere la sensazione di di avere accanto una persona che ami perché forse perché non c'è l'inciampo del corpo questo è veramente più bello perché perché forse stai attribuendo al corpo quello che tutti noi alla fine attribuiamo insomma alla fine noi no diamo la colpa al corpo questa è la verità questa è un po' una storia forse proprio sul corpo cioè sul modo in cui il corpo in questo caso di una donna a quarantena si mette in relazione col mondo e si rende conto di come il suo stesso corpo questa relazione non l'ha vissuta forse mai sì anche perché c'è quella quella anche quel modo di guardare viola le altre donne nel senso che c'è Valeria che si spoglia in in palestra e quindi nota il corpo ma lo guarda in maniera anche forse morbosa cioè ha un'attrazione c'è un'attrazione c'è una breve attrazione c'è una specie una cosa che sfugge sottile fra le due no c'è un'attrazione e basta non c'è nulla di morboso nell'attrazione c'è l'attrazione l'attrazione delle cioè io credo essendo pur essendo banalmente un maschio eterosessuale non lo so sarà che comincio a invecchiare ma comincio a non pensare più che questo possa essere ovviamente lo pensavo anche prima ma adesso lo realizzo uno steccato nei rapporti tra le persone cioè le persone cercano persone poi i generi il sesso è una cosa come posso dire che arriva anche dopo quando le persone sono in grado di trovare delle persone io credo che abbiano avuto un grandissimo passaggio dell'esistenza beh guardi è così cioè guarda è così perché poi in realtà noi che cioè chi io sto parlando da lettrice un momento perché io sono una lettrice ci tengo noi siamo delle lettrici noi siamo un gruppo che si chiama te lo leggo in faccia e noi abbiamo fatto di questo di questo ricercarsi una bandiera cioè questo noi quando ci incontriamo parliamo di come quel libro a me persona ha fatto sottolineare quella frase tu che hai 65 anni ti sei commossa io ho chi 65 anni ah no dico neanche io ce li ho sia ben chiaro sono vicina ma non così vicina e quindi diciamo nel nostro condividere noi condividiamo le emozioni quindi è una cosa fantastica cioè non si può parlare di un libro a prescindere delle persone perché voi in questo libro in tanti altri libri che leggete troverete voi stessi in una pagina qualsiasi in un capitolo qualsiasi di qualsiasi libro perché in fondo è l'azione attiva cioè il lettore è attivo sempre sì no io apprezzo molto questa tua vostra non so chi sono le altre persone noi siamo ospiti di questo festival meraviglioso e ci onoriamo di per parte quando ci chiamano vediamo sempre ma il nostro gruppo nasce come persone che leggono sì sì ma mi piace molto ovviamente mi piacciono le persone che leggono e che si entusiasmano per la lettura poi però bisogna anche riservarsi il diritto di dire e su questo sono meno d'accordo rispetto a quello che hai detto che se un libro fa schifo io non lo leggo cioè se io dopo venti pagine trenta pagine mi sto annoiando io quel libro non lo leggo su questo sai c'è sempre il senso di colpe esatto c'è il senso di colpe ancora una volta arriva il senso di colpe bisogna bisogna decidere non lo so guarda io ho studiato molto nel corso degli ultimi venticinque anni avevo quattro anni quando ho iniziato vorrei chiarire fate i conti quattro più venticinque ho studiato molto le discipline legate come dire genericamente allo studio del comportamento umano della psiche e di una cosa mi sono reso conto anche studiando molto per esempio la terapia bioenergetica che forse conoscete che è una branca diciamo della psicoterapia che si occupa del rapporto tra psiche e corpo diciamo delle relazioni che sono presenti costantemente si può risalire a un problema come dire legato a una patologia di tipo psicologico più che psichiatrico diciamo le ansie il panico la depressione non che sia facile curarla intendiamoci però si può risalire anche e questo è straordinario da un rapporto sbagliato che la persona ha con il suo stesso corpo quindi continuando a studiare queste cose e facendo io stesso terapia bioenergetica ecco io mi sono accorto di quanto sia fondamentale liberarsi da una serie di vincoli che ci portano a come dire a dover rispondere a un canone sì cioè decidere questa è una società che ha dittato canoni ma mantenendo assolutamente inalterati ovviamente il rispetto delle persone però io oggi mi riservo la piccola libertà che in realtà è un grande privilegio di avere grandissimo rispetto per le persone ma di esercitare il diritto di dire quello che penso sempre quindi non hai aspettato che nasici 90 anni che di solito mia suoccia dice no 90 anni dico quello che voglio no però ci sono vicino quindi insomma sono lì e quindi siamo lì insomma adesso quando io dicevo non ho 65 perché ne ho 85 insomma perché no ma questo per dire che cosa anche riguardo ai libri lo so che non è carino da dire che se io leggo un romanzo magari di un autore che magari conosco anche e non mi piace perché io gli devo dire ma guarda mi è piaciuto molto no se non mi è piaciuto io con le parole giuste gli dico che non sono convinto di quello che ho letto è un modo civile di avere i rapporti con le persone credo dirsi la verità così come io mi aspetto qualora qualcuno legga le mie cose e succede ovviamente come succede per tutti perché questo mi fa vedere l'altra faccia del mestiere di scrivere cioè l'altra faccia è quel territorio misterioso che si crea scrivendo una storia in cui quando hai finito di scrivere la storia stai dando qualcuno entrano altre persone certo e tu devi accettare che quelle persone facciano di quel territorio quello che vogliono certo quindi va benissimo ho ascoltato con molto interesse quello che hai detto su alcune cose non sono d'accordo e l'ho detto però mi sembra molto bello che tu l'abbia detto non so come dire io difficilmente riesco ad arginare quello che voglio dire un forte qualcuno a casa sa arginare mi piace arginare è già una cosa fisica diciamo no in realtà è vero ma questo è un momento prezioso per voi scrittori quello di incontrare chi vi ha letto o chi vi leggerà perché effettivamente io penso che uno scriva per se stesso o per gli altri non so il motivo per cui uno scrive perché uno c'ha dentro tante cose e le vuole dire e si dice così però è anche un regalo che fa è un atto generoso magari in questo caso particolare ma io ho avuto la fortuna di leggere sempre belli libri diciamo incontrare belle persone e leggere quindi non ho dovuto fare molta finzione non volevo istigare un istinto no 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 però c'è 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 il libro che proprio e pensi ma perché una passeggiata no il barco di amici non so un'altra cosa ci sono stati sicuramente però inizio a migliorare anch'io la fortuna mi sta diciamo assistendo non era una critica nei tuoi profumi no no però esisto approfitto di queste occasioni a volte per dire delle cose che magari dico solo a me stesso e quindi perché non dirle in queste occasioni magari appunto questo consente dietro a un libro c'è un lavoro che penso che questo diciamo in particolare un lavoro anche che poi tra l'altro è un libro che ha delle suggestioni bellissime c'è la musica c'è la musica classica la musica pop ma c'è anche un consiglio di lettura che ho subito diciamo svolto bellissimo bellissimo un silabario vedere proprio cioè amore amicizia bacio tutta la gamma dell'affettività possibile ovviamente ben scritto e quindi cioè è sempre un'esperienza come dire che divide il libro nel senso che tu non sarai mai la persona nel giorno prima che non l'aveva letto e ti aggiunge sempre un tassello quali sono i libri che vi hanno cambiato? che ecco ci sono? eh diciamoli il maestro e margherita i fratelli Karamazov poi memoria di Adriano che è l'Ursenar Rina Rina chi l'ha detto? i nostri anime di notte Aruf molto bello anche quella avete detto tutti i romanzi bellissimi devo dire diversi molto diversi da questo lato come? la passione di Artemisia la valle dell'Edo beh insomma siamo bravi conversano bravo conversano c'è che legge quindi beh insomma c'è un bel bel movimento di idee allora ve lo leggo in franza ah ha capito pure qui c'è un bel movimento sì sì bloom book quindi insomma ci siamo ci siamo invece io vi racconto un attimo ma molto velocemente un libro che ha cambiato la mia vita ecco non un libro che ho letto ma un libro che ho scritto walk no io non volevo scrivere mia madre scriveva e dicevo basta una in famiglia poi la cosa è diventata epidemica ho visto sì è una malattia però insomma io amavo molto e amo tuttora perché mi rileggo certe cose di mia madre che vi consiglio di leggere Enza Buono e però io avevo insomma non avevo ancora cominciato a scrivere vivevo una relazione di quelle che sono nella fase in cui ci si sta lasciando e la mia compagna di allora insomma vivevamo in una casa separati in casa era diventata questa roba qui che succede a molti ed è una cosa diciamo frequente che mette malinconia insomma è ovvio no specie quando hai vissuto una bella vita con quella persona e allora in nome di questo io un giorno ho detto quella era casa mia ho detto alla persona che viveva con me senti facciamo una cosa civile io me ne vado per un po' tu quando sei pronta fai con calma tutte le tue cose quando sei pronta ad andare via mi chiami e io torno a casa insomma chiaramente prendi quello che vuoi cioè sentiti libera e così è stato per due mesi ho vissuto una situazione un po' diciamo di fortuna dici parenti no insomma diciamo di media fortuna e poi effettivamente mi chiama io sono pronta sto andando via era un pomeriggio d'inverno e stava piovendo proprio c'era tutta una dimensione un po' sturmundrang in questa situazione e io torno a casa però che fa la pioggia sto tornando a casa apro la porta di casa e in quell'istante mi rendo conto che le mie parole prendi pure tutto quello che vuoi erano state prese un po' alla lettera la casa era vuota oddio totalmente io già immaginavo che avessi dovuto fare lo sfratto invece sono portata via le cose era felicemente vuota mi confesso che ho avuto una strana ebrezza dinanzi a quella casa vuota proprio una dimensione un po' bohemiana ho detto vabbè che fa c'era solo il mio studio che era chiuso per fortuna se non lo so immaginare anche l'accappatoio per dire che poi mi sono sempre chiesto ma c'è un mercato nero degli accappatoi e quindi io dico vabbè adesso ci dormo su domani reimpostiamo tutto ma dove dormo non c'era il letto è stata bravissima non c'era niente c'era il letto ho detto vabbè ma io devo pur dormire non potevo tornare a dormire nella casa ormai vado in un posto lì vicino dove tagliavano la gomma piuma e mi sono fatto tagliare una specie di materasso provvisorio me lo sono portato sulle spalle immaginate per strada con la pioggia arrivo a casa se stiamo lì passando dall'elettricista mi sono fatto fare una bajou molto minimalista molto giapponese cioè un filo con il portalampada messo lì lo guardate e ho detto beh però mi piace è una bella situazione molto giapponese poi era un periodo che leggeva molto i giapponesi ora ci dormo su faceva freddo perché il riscaldamento lì era centralizzato e finiva di funzionare tipo alle sette era ormai sera e non c'erano più le coperte quindi io dico va bene non fa niente dormo così col cappotto solo che quando hai un cappotto e devi dormire col cappotto devi fare una scelta o sotto e io scelsi sopra ma peggio sotto mio socio diceva sempre tieni i piedi al caldo tutto il resto scopre invece mia madre mi aveva tempestato copriti la gola e io quindi nella memoria dell'infanzia ho recuperato questo messaggio di come dire terroristico e ho dormito così con i piedi fuori e però siccome faceva freddo strofinavo un po' io il piede un pochino cavo il come dire la pianta dell'uno sul dorso dell'altro gli dicevo però guarda che bello il bello del piede cavo che puoi puoi strofinare mi sveglio la mattina vado ad aprire lo studio dovevo no 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 tutto tranquillo e accendo il computer e dico che strano questa frase mi è stata in testa tutta la notte e me la scrivo io non mi sono più fermato e per settimane e mesi ho scritto notte e giorno senza fermarmi quello che poi è diventato il mio primo romanzo che poi ha avuto un titolo non casuale che si intitola With or Without You cioè con te o senza di te che è anche una canzone degli U2 il cui inizio è chi vuole lo può leggere è il bello del piede cavo che puoi massaggiare strofinare eccetera 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 quindi per dirvi quel libro e quel piede cavo mi ha cambiato la vita io sono molto grato a quella casa vuota e al fatto di non aver trovato nulla senti molto meno poeticamente da noi si dice da un guasto nasce una giusta non succede a tutti che ti lascia tua moglie o tuo marito e ti scrivi un libro magari torniamo a Viola che io vi dico solo una cosa che Viola forse fa questo viaggio perché lui ha detto lo ha scritto lui che è imprigionata nella libertà di esistere cioè io mi alzo e me ne vado perché come si fa cioè quando ti va via tutto nella vita forse credi non avere niente tu sei condannato ad esistere quindi ecco che la frase che ho detto all'inizio che la morte è una cosa dei vivi è una cosa dei vivi perché in realtà chi se ne va se ne va tu devi restare devi restare devi trovare il modo di restare quindi c'è il racconto di questo viaggio c'è ancora poi alla fine ecco la fine no no la fine lo diciamo no no per carità dico alla fine uno gira e gira e gira e gira per cercare il suo posto ma il suo posto lei in qualche passo del libro lo dice forse il mio posto è l'acqua perché nuota dovunque va a Parigi questa forse è nata ricerca voi vede le piscine sono qua sta entrando in un territorio minato già zona off limits di quello che si può dire vabbè nuota nuota avevamo detto prima che nuota e poi poi che altro vuoi che cosa non è stato detto ancora che giro ha fatto questo libro ha fatto un giro che è andato abbastanza cosa non è stato detto cosa non sei riuscito a dire nelle precedenti presentazioni che ti è rimasto che sai tu torni a casa e pensi a quello che hai detto potevo dire e non l'hai detto no devo dire ho girato tutta l'Italia ho già fatto più di 50 incontri in giro per l'Italia quindi molti è interessante sì spesso ci sono alcuni temi diventano ricorrenti perché insomma però a volte vengono fuori delle cose curiose per esempio c'è chi mi ha mi ha fatto molte domande sulla musica presente nel libro il rapporto tra tra la musica della storia e la musica che ascolto o tante altre cose non c'è una come dire una cosa che mi sembra di non aver detto o perlomeno mi sembra di scoprirlo quando mi vengo sollecitato a pensarci perché poi sapete Calvino diceva che quando si finisce di scrivere un romanzo ci si sente liberati no spaisati completamente come quando noi finiamo di leggere un libro come come quando se l'hai stato sì 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 quel tipo di spaisamento con un aggravante che quel libro che hai scritto ti ha accompagnato mesi e anni quel personaggio in questo caso Viola mi ha accompagnato per molto tempo e mi ha come dire chiesto di attraversare la stessa palude e quindi per farlo devi metterti molto in gioco devi mettere il tuo stesso corpo accanto al suo e camminare dentro la palude in cui ti sporcherai in cui affonderai i polpacci fino alle cosce forse anche più su e questa è una cosa che porta alla necessità di di entrare dentro il territorio profondo della coscienza però quando lo fai ed entri in una relazione fortissima col personaggio quando smetti di scrivere ti chiedi dove sia io tuttora e siamo sono in giro da un pezzo insomma da maggio da metà di maggio e tuttora ho la sensazione che mi manchi quella quella donna cioè che mi manchi Viola e adesso che sto cominciando a lavorare a una nuova storia succede quella cosa strana in cui c'è proprio una piccola cerimonia degli addi silente nello studio in cui proprio la vedi andare via perché stanno entrando degli altri che sono molto diversi è una storia molto diversa quella che che sto per scrivere per cui niente basta ma c'è qualcuno che vuole dire qualcosa così d'amblè lasciare la casa non credo è una buona domanda è un'eccellente domanda devo dire no perché siccome ho ristrutturato casa che mi son progettato io da poco gradirei tenerla così come insomma quindi puoi fare quei contratti prima no 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 ce ne andiamo in pace ma tu no va bene in realtà è stato un fatto isolato poi ha avuto altre altre vite diciamo però è una bella domanda no direi che non lo direi ecco diciamo direi quando sei pronta vai via poi per le cose che vuoi prendere sentiamoci direi sì è vero funziona funziona così perché anche quello è anche un gancio per ritornare c'era una signora che voleva è un come sempre per quanto mi riguarda come dire il contesto naturale non è un fatto casuale cioè io penso che le città i luoghi il cielo gli odori che si sentono sono dei personaggi della storia quindi necessari a raccontare la storia quindi no non è non è casuale poi va detto anche che a me capita di avere questo processo un po' di osmosi mentre scrivo spesso quello che sta succedendo intorno a me si condiziona cioè entra e in qualche modo filtra poi in questa casa dove non entrerà quella lì insomma in questa casa che ho da alcuni anni è una casa tutta bianca la casa quasi vuota un po' come è la casa di Viola ed è una casa piena è quasi tutta finestra è un piano molto alto quindi quando scrivo nel mio studio io sto come se stessi all'aperto e quindi la pioggia mi arriva addosso quindi se la pioggia mi arriva addosso mentre scrivo arriva addosso anche a quello che scrivo e un'altra cosa per chiudere che un po' la perdoni Viola si perdona dicendo che ognuno in fondo riesce ad essere quello quello che è insomma non c'è da da sbagliare alla fine fa quel che può e però mi devi fare il finale io mi alzo e mi devi dire ah devo dire questo lo devo dire come moltissima paura tesoro sei magrina ha detto tesoro sei magrina avete filmato? ah l'abbiamo anche filmato possiamo avere un altro finale scusate vi leggo dieci righe dai così usciamo da questa dimensione che ci porterebbe direttamente direttamente a Zelig no per carità dovevo avvisarti in realtà che sei in una situazione semiseria no no ma io sono totalmente felice quando sono nelle situazioni semiserie mi confondo anche tant'è che non trovo quello che volevo dire ah ecco questo non è invece molto sì da Zelig però è una cosa che ha a che fare forse con il senso un po' della storia sembra arrivare dalla fine della storia ma in realtà non vi svela nulla anzi forse c'è anche un piccolo tranello per chi leggerà sono stata una bambina trafitta dagli estrali di un dolore invisibile perfetta invincibile inespugnabile abbandonata nella terra desolata della compassione ho attraversato la vita da sola non avendo mai il coraggio di dire a me stessa che questo era ingiusto crudele non sono mai riuscita a dire a mia madre che ero infelice l'ho amata così tanto fino alla disperazione lei mi ha amata disperata fino all'ultimo mi ha protetta ferocemente nascondendo il pianto nei sorrisi convinta che questo bastasse che io che io non potessi vedere si è addormentata sfatta sul divano sul mio letto tenendomi la mano per tutta la mia infanzia sono stata una ragazza inadatta sottratta nei chili dal dolore protesa verso giornate di spensieratezza senza riuscire a raggiungerla mai anche quando quelle giornate forse ci sono state ho continuato a vedere l'ombra dietro di me le cuffie mandano una musica a caso dal finestrino posso vedere le nuvole nel cielo di nessuno su una rivista infilata nella tasca del sedile di fronte c'è scritto j'ai tout mon temps e io penso al mio tempo quello trascorso alle cose non dette temute proibite annientate e non so più chi sono e chi potrò ancora essere dopo questa rivoluzione mi sento respirare in questa tregua del cielo mentre sorvoliamo le montagne respiro alla stessa cadenza degli archi che suonano nelle mie orecchie Giorgio e io ci siamo salutati in aeroporto a Brest mi ha tenuta stretta al suo petto e abbiamo versato le lacrime del dolore e dell'addio avrei voluto dirgli vediamoci e non perdiamoci di vista la prossima estate potresti venire in Italia da me o magari in autunno ma non gli ho detto niente ci siamo soltanto stretti forte per il tempo che chiedono i padri e le figlie grazie grazie a te allora il libro è una serie mannaggia a te allora il libro è all'ingresso e lui è per mettere la firma qui no no io non metto firme non metti firme no no nel senso che no me lo dici mi hai fatto illudere tutta la platea è un gioco è un piccolo rito che faccio e siccome non metto dediche perché non so chi sia la persona di fronte a me quindi sarebbe sciocco io faccio dei disegni che sarà la persona a chiedermi siccome io sono ancora meglio un disegnatore uno dice voglio un gatto perché questo mi ricorda la mia così gli ho fatto veramente una delica se trovi un posto qui io sono ma io sarò un canno non ho deciso se ne vede allora questo è un diminutivo eh tu è il mio e come vuoi millio o millio 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 millio